Il Comune di Ischia assegna un encomio a Gaetano Maschio e Filomen Apilo. Gaetano, quindi una grande emozione? Una grandissima emozione al ritorno dalla tournée in Brasile e Peru, soprattutto anche perché le parole che ho letto nell'encomio mi hanno fatto sentire ancora più responsabile di quanto normalmente facciamo tutti i giorni, perché è stato sottolineato questo legame tra noi che giriamo il mondo portando il messaggio della canzone italiana e napoletana e il nome di Ischia, cosa che realmente avviene. Tutte le volte che noi partiamo dall'isola per portare questo messaggio ci sentiamo onorati ed impegnati a far sì che anche grazie al nostro canto si possa parlare dell'Isola Verde e di questo siamo grati naturalmente al sindaco di Ischia e all'amministrazione comunale che ha pensato di volerci donare questa grande gioia. Ovviamente era tutto frutto di questa ultima tournée in Sud America, in Brasile e in Peru. Esattamente, anche perché lo avevo sottolineato man mano che si svolgeva questo elemento che tutte le volte in cui venivamo presentate e si parlava di Ischia, c'era sempre un aggettivo che chi ci stava presentando metteva, uno fra tutti, l'isola meravigliosa. Che sensazione si prova a parlare dall'altra parte dell'oceano della nostra isola? È una sensazione di emozione e di impegno, quindi tutte le volte noi ci sentiamo emozionati, tra l'altro sentiamo che cosa significa avere la propria terra d'origine lontana. Per noi 15-20 giorni al massimo, però per chi vive lontano dall'Italia da così tanto tempo, è certamente una grande emozione dentro, ogni qualvolta qualcosa o qualcuno ti riporta alla tua terra di origine. Ora l'encomio rappresenta anche una responsabilità. Certamente, l'ho detto anche in fase di consegna, responsabilità a continuare e quindi ad impegnarsi sempre di più, essere degni di cotanta stima ed anche a man mano instillare nelle giovani generazioni il desiderio di fare altrettanto. Grazie a tutti.